cari amici ben eravati in questa nuova riflessione fotografica nella quale vi parlo della nuovissima sony la z v1 insomma la full frame dedicato a coloro che creano contenuti sul web su piattaforme social riflessione fotografica quindi dedicata a un nuovo prodotto era un po di tempo che non facevo delle riflessioni dedicate parlando di prodotti specifici ma questa volta la voglio fare ve lo dico subito non sarà una riflessione fotografica di tipo tecnico cioè non andrò a fare un'analisi delle caratteristiche a questo ci pensa roberto a fare un'analisi più tecnica voglio fare invece un ragionamento un po intorno a questo prodotto alla filosofia di questo prodotto e come si inserisce nel mercato video fotografico insomma nel mercato dell'imaging in generale prima di entrare in argomento ti ricordo iscriviti al canale spunta la campanellina riflessione fotografiche argomenti a 360 gradi intorno al mondo della fotografia se va nel playlist e troverai tantissimi argomenti se va in descrizione a questo video trovi invece i link alle pagine di presentazione dei corsi di fotografia se ti interessa ancora la fotografia e vuoi crescere fotograficamente il corso dello scatto alla stampa fine art il corso enorme dedicato al bianco e nero il corso anche questo veramente enorme dedicato alla composizione fotografica e il corso super completo dedicato al flash lo dico sempre il migliore investimento su se stessi detto questo ragazzi dai vado a bomba riflessione fotografica molto free molto come dire ragionamenti a voce alta allora prodotto vi devo dire la verità interessante molto molto interessante questa zv1 che non è una novità in senso assoluto perché sapete che già sony aveva creato delle linee di prodotte dalla compatta che tra l'altro utilizziamo anche noi sony per integrare le riprese video quindi insomma un concetto appunto di fotocamera compatta dedicata appunto ai creatori di contenuti fino alla zv10 se non ricordo male e a questa zv1 che è appunto la full frame dedicata a coloro che vogliono creare contenuti ebbene sì a quanto pare i costruttori di fotocamere videocamere giapponesi si sono accorti che esiste la generazione z la generazione z ci avete fatto caso sia nikon la sony tutti z appunto la generazione e che oggi ha circa 23 20 23 anni insomma dal 97 al 2012 no mi sembra che viene considerata la generazione z per noi invece più vecchiotti siamo alla generazione x e quindi dove essere una zx qualcosa ma insomma ci ha provato zai se gli è andata male quindi a parte questa parte le battute dicevo tutti quanti stanno puntando su questo mercato però ragazzi c'è chi ci è arrivato prima e chi ci è arrivato dopo vi devo dire subito la verità io non sono un fan di sony lo sapete l'ho utilizzata poi ho venduto certo altri brand però ho grande stima per sony perché è un marchio che comunque ha rivoluzionato il mondo della fotografia ci ha preso su tutta la linea è stato l'unico brand a mettere alle corde il duopolio canon e nikon addirittura a scavalcare anche recentemente panasonic nel mondo video che aveva insomma una posizione piuttosto consolidata insomma sony quando entra in guerra fa veramente danni cioè a degli armamenti davvero potenti e in effetti ha sbaragliato dicevo nel mondo fotografico sta facendo una grande differenza anche nel mondo video perché dico ragazzi che sony è avanti perché dico che avanti per un motivo molto semplice per che è stata intanto la prima all'epoca comprendere il discorso del full frame nel mondo mirrorless a comprendere l'integrazione di quegli anelli adattatori quindi poter sfruttare qualsiasi ottica a utilizzare delle tecnologie innovative quindi lavorare cioè superare un po il concetto di autofocus delle reflex a livello video insomma a creare la prima diciamo iberi da non in stile panasonica anche panasonic da quel punto di vista è stata diciamo lungimirante ma ricordate la sony a7s 1 mi sembra che fosse la prima il primo modello con la resa del tiso pazzesca ha avuto un successo allucinante nel mondo dei videomaker sta ad esempio nel mondo delle ottiche producendo obiettivi dire smart dire poco tipo il 20 70 mm f4 ragazzi questo ti fa capire l'intelligenza di un marchio che ragiona fuori dagli schemi classici e nel mondo video fa bene perché la fotografia è un pochino più come dire è un po più stagnante ma un po più ancorata determinati canoni determinati schemi il mondo del video ha esigenze diversi e comunque si interfaccia effettivamente con una generazione più dinamica meno fissata con degli schemi classici che derivano dalla fotografia insomma di vecchia scuola tra virgolette ma lo dico non in senso dispregiativo se mi conoscete sapete benissimo come la penso per me insomma gallina vecchia fa buon brodo ma a prescindere da questo non voglio fare un trionfo di luoghi comuni però è oggettivamente sony avanti ma ci ho pensato a questo anche proprio in questi giorni se avete visto insomma stiamo assistendo agli ultimi vagiti gli ultimi come respiri prima insomma della di partita di peer view che sta pubblicando tutta una serie di interviste al cp plus in giappone e intervista praticamente i principali produttori e leggendo le interviste di canon di nikon un po di panasonic un po di fuji ti rendi conto ragazzi a parte forse canon che è sul pezzo ma gli altri stanno inseguendo non c'è niente da fare stanno inseguendo leggevo l'intervista di nikon che indubbiamente ho grande stima perché si è ripresa da un periodo si sta riprendendo da un periodo veramente difficile tra forniture problemi economici eccetera eccetera che dice sì ci siamo accorti che ci sono tante persone che creano che creano contenuti per per il web per i social e dobbiamo anche noi inserirci in questo mercato ma come dobbiamo inserirci cioè tu devi avere già una linea di prodotti pronta e competitiva cioè va bene che ormai fare il fotocamere diciamo dalla progettazione alla messa in linea passano circa sei mesi ma santa miseria cioè vi rendete conto che siamo indietro cioè stanno si sono accorti oggi che esiste un mercato sony se ne accorta praticamente tre anni fa e ha cominciato a puntare su questo aspetto è stato uno dei primi insieme a panasonic ma sony ancora di più a puntare veramente tanto sul video quindi onestamente devo riconoscere a sony e per quanto ho criticato il marchio per diverse cose dall'ergonomia ai menu eccetera eccetera devo riconoscere a sony una lungimiranza di marketing sono sono onesto sono in gamba hanno marketing veramente aggressivo stanno lavorando non più solamente per segmenti di mercato un approccio di marketing ormai abbastanza superato piuttosto lavorano su cluster su gruppi omogenei di target cioè hanno un approccio sicuramente più moderno quindi è un prodotto che da questo punto di vista secondo me ha un pubblico veramente enorme cominciamo a parlare un po degli aspetti che mi lasciano un pochino più perplesso su di questa di questa fotocamera anzi di questa videocamera scusate perché è proprio una videocamera a tutti gli effetti allora prima di tutto vi dico la verità un po il prezzo il prezzo 2700 euro poi vedremo effettivamente il prezzo del listino quanto sarà insomma sopra i 2500 euro che secondo me è un po uno spartiacque onestamente non è poco certamente è una fotocamera che offre tanto per coloro che appunto creano contenuti però è un prezzo importante e onestamente diciamo spendendo circa 3000 euro ti si comincia a offrire tutta una serie di prodotti non così esclusivi non così specifici per l'amor del cielo per coloro che creano contenuti però comunque ci sono soprattutto nel mondo dell'usato cioè volendo ti puoi acquistare a quel prezzo due panasonic s5 per fare un esempio un canon r6 comunque insomma ci sono prodotti più economici che soddisfano onestamente l'ottanta per cento delle esigenze di coloro che creano contenuti web perché poi ok questo è un prodotto molto specifico molto targettizzato però non tutti hanno di tutto non tutti hanno bisogno di esattamente quelle tecnologie lì cioè la maggior parte delle camere fino ad oggi utilizzato sono state più che sufficienti come funzionalità per fare video tranquilli tranquillamente insomma non è che sia una roba trascendentale certo sony ha puntato sulla sull'intelligenza artificiale ecco questa è un'altra caratteristica che denota un po il futuro dei prodotti sony è evidente che sony punterà tantissimo sull'automatizzazione ma questa cosa l'ha detta ragazzi anche canon ha detto renderemo sempre più semplice il processo di acquisizione di immagini quindi sia foto che video quindi l'intelligenza artificiale andrà a sostituirsi alle competenze le capacità del dell'operatore sapete come la penso non non torno sul tema dell'intelligenza artificiale c'è una riflessione fotografica anzi più di una dedicata quindi vado avanti però il concetto è questo i due principali players canon e sony hanno detto cerchiamo di automatizzare il processo perché perché ragazzi loro stanno cercando di conquistare appunto la generazione z non era la mia una battuta non era z di zorro la generazione z cioè la generazione di ragazzi che sono nati con lo smartphone in mano sostanzialmente o comunque sia sono cresciuti di fatto con lo smartphone sono degli smanettoni persone che magari ragazzi che magari non hanno una super competenza tecnica né di foto né di video però hanno competenza nel smanettare nei programmi nei software quindi hanno questo tipo di abilità e comunque sono diciamo è un target a cui si rivolge questa fotocamera di persone che stanno utilizzando magari l'attrezzatura più basica o addirittura lo smartphone e vogliono fare il salto proprio in termini di qualità d'immagine però senza dover impazzire nella formazione nella conoscenza delle nozioni eccetera eccetera insomma roba piuttosto smart io credo e lo ripeto che secondo me il investimento è migliore sempre sulla crescita personale perché questo ti rende indipendente dai prodotti e dei produttori però è questo è andato di fatto cioè questo tipo di target vuole diciamo le shortcut non un po le scorciatoie ma da questo punto di vista secondo me il prodotto vediamo quando lo proveremo sono curioso insomma di testarlo di vedere quanto è intelligente tra virgolette quanto ti semplifica la vita come colui che crea contenuti per i social ma a mio giudizio non ha quel livello di immediatezza che dovrebbe avere io vi dico la verità secondo me ancora non abbiamo visto un vero prodotto veramente veramente smart cosa intendo dire prima di tutto l'interfaccia l'ergonomia è ancora di fatto da fotocamera va bene hanno tolto il mirino c'è il display orientabile ma è ancora da videocamera secondo me è una camera dedicata solo al video un po come fatto black magic deve avere uno è praticamente tutto schermo super touch e quindi ricorda molto lo smartphone a mio giudizio per questo tipo di target ci vorrebbero tutta una serie di case cioè situazioni in sostanza devi riprendere un prodotto clicchi un'icona è automaticamente la macchina si imposta e a livello di intelligenza artificiale gestisce in tempo reale le criticità che si possono verificare al momento della ripresa devi fare un'intervista c'è un'icona per intervista devi fare una ripresa avvicinata a un macro di un prodotto per recensire devi riprenderti c'è un che c'è un'icona quindi più immediatezza io non devo andare nei menu settare le varie funzioni l'active per stabilizzare il movimento del gimbal cioè cose più immediate più easy più da smartphone la forza dello smartphone ragazzi è proprio il fatto che tu ti riprendi io utilizzo un iphone boh utilizzi l'iphone non è che devi stare lì a fare chissà quale impostazioni è veramente come dire efficiente e efficace certo la qualità non è quella di ovviamente una fotocamera full frame ma il tipo di come dire fruizione di interfaccia il tipo di rapporto con questi strumenti a mio giudizio devono avvicinarsi più possibile agli smartphone compreso tra l'altro la condivisione tramite scheda sim questa è un'altra cosa che vedo che continua a mancare su questi prodotti cioè io vorrei un prodotto che faccio la ripresa magari già in automatico benissimo posso applicare le loot posso applicare i profili insomma automatizza un po tutto quanto però una volta che faccio la ripresa o faccio una clip posso immediatamente condividerla su instagram sui vari social senza dover passare sul cellulare del cellulare dello smartphone da smart può poi condividerla perché non ha senso è un prodotto creato per coloro che condividono per persone social la condivisione deve essere il cuore di tutto è l'intorno che tu costruisci praticamente il prodotto e lo fai ripeto con dell'automatizzazione io non devo andare nei menu nei sotto menu per settare la macchina per capire come funziona anche se poi l'intelligenza artificiale riesce applicare delle algoritmi particolari altra cosa non mi interessa assolutamente nulla cioè o meglio a me che sono un po del mestiere e mi interessa anche la tecnologia che c'è dietro in fotocamere può essere interessante la comunicazione sul fatto che l'intelligenza artificiale dell'autofocus riconosca le braccia le gambe eccetera ma a una persona lo so che vende moto e che sta cercando semplicemente un prodotto per recensire moto facciamo questo esempio qui che non gliene frega nulla del video della fotografia interessa un prodotto che semplifica la vita delle tecnologie utilizzate sinceramente non gli importa una mazza cioè interessa semplicemente il risultato quindi il modo più veloce per arrivare al risultato questo è praticamente il paradigma cioè scelgo il prodotto che mi permette di avere una qualità alta in modo più semplice possibile e più diretto possibile tutto ciò che mi fa fare un percorso a zig zag diventa qualcosa che allontana il potenziale acquirento con così la persona potenzialmente interessata al prodotto stesso quindi secondo me sony sta facendo molto bene nel differenziare per diciamo gruppi di utenza i prodotti ha cominciato a capire che ok va bene qualche fotocamera ibrida però basta con sta storia delle fotocamere ibride che scontentate il fotografo a cui avete messo due miliardi di funzioni di menu di complicazioni con un sensore più pensato per il video e per la fotografia e il videomaker che invece ha altre esigenze quindi brava sony che comincia a differenziare in maniera più netta i prodotti questa è una cosa molto intelligente mi piacerebbe che sony desse uno schiaffo morale uno schiaffo morale a doppie mani così di rovescio ai vecchi costruttori facendo un prodotto con una fotocamera attenzione una fotocamera concetto vintage ma veramente vintage quindi una fotocamera con tempi ghieri diaframmi una linea di prodotto che ancora non esiste ancora i costruttori non capiscono che c'è un mercato veramente ampio cioè la g adesso a parte le battute oggi ce l'ho con la sociologia e con le fasce di età generazionali ma la generazione veramente x o il famoso baby boom che ancora grazie a dio sono vivi e vegeti interessa tantissimo l'esperienza di scatto un prodotto è una fotocamera veramente fotocamera si stanno allontanando dalle fotocamere vanno alla ricerca di prodotti più datati perché sono più semplici sono più vicini alla loro e si alle loro esigenze la loro mentalità e i costruttori come nikon canon fuji se vogliamo anche l'impost eccetera non lo capiscono sono di coccio veramente dei coccio anzi alla romana ma proprio di coccio non ci arrivano perché perché come al solito ragazzi queste grandi produttori ma queste grandi aziende ma questo anche in altri settori cosa fanno si rivolgono a aziende di consulenza di marketing che stilano dei report di marketing e li danno praticamente a tutti a tutte le case e tutte quante fanno di fatto la stessa roba perché attingono le stesse informazioni e il marketing sostanzialmente è come se fosse un ristorante il cliente chiede non so l'orata con le patate poi gli diamo l'orata con le patate ma il marketing non ha longimiranza non capisce non è non ha il dono di guardare avanti tranne rari casi e quando le aziende fanno questo spopolano a volte fanno dei flop ma volte veramente ci acchiappano e ti cambiano il mondo è inutile fare tanti esempi insomma che ce ne sono migliaia nel campo della tecnologia quindi ragazzi per me mi piacerebbe ripeto come schiaffo morale che sony facesse una fotocamera completamente autentica una vera fotocamera con materiali magari un pochino premium senza andare a vendere a 6.000 euro stile laica ma la cosa molto più democratica e con una linea di prodotti di obiettivi anche magari tutti messo a fuoco manuale per un gruppo di fotografi vogliono un'esperienza autentica magari con un sensore dedicato con una colorimetria dedicata insomma chi ancora ama la fotografia ecco quindi da una parte il video va benissimo ci può stare una serie di prodotti un pochino ibridi perché effettivamente esiste anche l'utenza di colui che fa un po video foto ci sono tanti professionisti da questo punto di vista ma anche fotomatori ma c'è anche un gruppo di persone che vuole la fotocamera vuole fare fotografie vuole godere dell'esperienza di scatto io sto aspettando ancora il primo produttore che apre gli occhi e si svegli leggevo l'intervista sempre su dp review di nikon dicendo beh sulla z fc che fc sta per casual cioè sostanza tu te la porti in giro e fai delle foto un po casuali un po così insomma una sorta di rico novia per intenderci con un bel look che richiama la fm dice sì sappiamo effettivamente che le persone vorrebbero una sorta di df in full frame adesso vediamo e poi gli ha chiesto ma tu che fotocamera hai la df allora vuol dire sei proprio scemo cioè se tu addirittura la usi se la usi vuol dire che la apprezzi mi capisci il valore è come dire pratico estetico se vogliamo anche filosofico del prodotto e poi dopo sostanzialmente sostanzialmente non ci credi e non investi su una linea proprio tu cara nikon che hai delle icone mamma mia top nel mondo dell'analogico che potresti tranquillamente riconvertire in in digitale cioè ragazzi veramente io sono costernato sono costernato nel vedere come in certe aziende e certi uomini marketing e siano veramente con i paraocchi davanti io non so se hanno le braccia legate dal cd a questo non lo posso sapere ma a volte veramente è deprimente nel vedere la distonia che esiste tra gli appassionati tra coloro che vivono di fotografia o che amano la fotografia e le aziende produttrici a volte c'è un gap veramente enorme tornando alla sony quindi ricapitolando prodotto che poteva essere molto più avanti come concetto come concept di fatto la vera innovazione è legato all'intelligenza artificiale la vera innovazione è come dire credere in una linea di prodotti dedicata esclusivamente a coloro che creano contenuti esse e in qualche modo dagli una diverse fasce di prodotti della zv 10 zv 1 quindi due fasce di prodotti ben distinte fino ad arrivare al mondo del videomaker professionale quindi ottima questa cosa ottima insomma probabilmente la funzionalità ma non abbastanza innovativo e soprattutto dovrebbe essere più vicino veramente alla filosofia smartphone questo è un po il mio pensiero però come sempre ragazzi voglio sapere la vostra opinione sono curiosissimo lasciate i commenti perché è molto molto interessante anche discutere di queste cose che in qualche modo modificano il modo in cui viviamo la fotografia e il video mettete un like se vi è piaciuto il video ci vediamo alla prossima riflessione ciao ragazzi